In questo nuovo episodio di Focus vi portiamo in Senegal. Il paese ha fatto del successo la sua priorità, per questo scommette soprattutto sui suoi imprenditori. Va detto che certe piccole e medie imprese senegalesi sono veri gioielli. È il caso di questa azienda, che negli anni è diventata leader nell'agroalimentare, una storia di successo nata dal nulla. È partita nel 1976, quando la sua fondatrice, Babacar Ngo, con un investimento di 100 euro, ha acquistato 120 pulcini. Tutto è iniziato da lì. Tutta la storia della Sedimà fino ad oggi, fino ai 50 milioni di euro di cifra d'affari. Tutto è iniziato da 100 euro. L'azienda oggi impiega direttamente 430 persone, ma opera con altri 10.000 produttori di uova e polli in tutto il paese. Negli ultimi anni ha investito diversi milioni di euro in nuovi impianti ad alta tecnologia. Ha anche optato per la diversificazione, per esempio con la produzione di farina e anche nell'industria dell'edilizia. Dal 2016 siamo in Mali, a Bamako, in Guinea Equatoriale, in Congo. E' l'ambizione di diventare una delle maggiori società agroalimentari d'Africa. Altra campionessa senegalese è una start-up lanciata nel 2008 da due giovani imprenditori che è diventata un'enorme piattaforma digitale per servizi finanziari in 60 paesi. Fornisce fra l'altro trasferimenti di denaro. Tratta oltre un milione di transazioni al giorno. Oggi la Wari è riuscita a creare qualcosa d'avanguardia ed è riuscita a posizionarsi in un ambito in cui non c'erano che multinazionali estere. Con 300 posti di lavoro interni ed oltre 45.000 posti di lavoro nell'indotto, la società ha inoltre iniziato a diversificare con l'introduzione di nuovi servizi e la recente acquisizione del secondo operatore di telefonia del Senegal. Negli ultimi anni il Senegal mostra un tasso di crescita fra il 6-7% e continua a puntare a una crescita a due cifre. Ma al di là dei semplici numeri, i senegalesi spesso dicono che vogliono identificarsi in questa crescita. In altre parole, vogliono uno sviluppo di qualità, una crescita inclusiva che sia davvero palpabile nel loro quotidiano. Una crescita di cui tutti possano beneficiare. Pierre Ndiaye è colui che affina la strategia economica senegalese. Secondo lui, non c'è crescita senza uno zoccolo duro di piccole e medie imprese. Vogliamo una crescita ordinata, una crescita inclusiva che non lascia da parte alcun senegalese. Per non lasciare da parte i senegalesi bisogna tener conto dei singoli imprenditori, le piccole e le medie imprese. Visto che l'accesso al finanziamento è fondamentale per gli imprenditori, una banca e diversi fondi specifici sono a loro dedicati. L'obiettivo è anche favorire l'accesso agli appalti pubblici e promuovere l'innovazione. I costi di creazione di un'impresa sono stati ridotti del 50% e tutte le formalità si svolgono online. Queste piattaforme elettroniche funzionali si consolideranno con l'entrata in vigore dei pagamenti telematici che daranno al Senegal un'amministrazione moderna con zero format cartacei per una buona trasparenza e una sicurezza efficace. Ci si sforza anche di velocizzare gli allacci all'acqua e all'elettricità. Per l'acqua siamo passati da 75 a 20 giorni, per l'energia elettrica siamo passati da 80 a 48 giorni con un'ulteriore riduzione del 10% della tariffa elettrica. Possiamo fare investimenti in paesini remoti. Per esempio siamo andati fino a Notò, in una zona dove qualche anno fa non c'era né acqua né elettricità ed oggi, grazie a tutte queste infrastrutture, potremo impostare nuove incubatrici con capacità da 40 milioni di pulcini l'anno. Queste situazioni positive hanno generato delle vere dinamiche ben tangibili in Senegal. Per il direttore generale della piattaforma tutto ciò è una questione di fiducia in se stessi. Forza, provate e che nessuno vi dica che è impossibile. Siamo tutti molto ambiziosi, adesso per noi non ci sono limiti. E la prova è che le cose funzionano, tanto che gli investitori da tutto il mondo si interessano molto ai record delle aziende in Senegal.